Vi auguro una buonanotte. Spirito del coyote. Confida nelle deviazioni divine. In questo periodo hai l'impressione di essere sospinto verso una strana deviazione. Hai l'impressione che quella che sembra essere la giusta azione è la scelta giusta. La situazione migliore o una relazione favolosa si trasformerà inaspettatamente nel suo opposto oppure che svanisca semplicemente nel nulla come se fossi stato preso in giro. L'energia ingannatrice dello spirito del coyote ha lo scopo di farvi vivere una situazione che ti insegneranno lezioni che hai dimenticato di imparare. Forse è bisogno di assaggiare il fallimento prima di vivere un successo, di provare delusioni prima di poter apprezzare appieno la gioia. L'amore e la prosperità che stanno per giungere forse stai riprendendo uno schema che non è in sintonia con la vita che intendi cocreare. Quindi ti viene ricordato che è la gratitudine e non la compiacenza che ti farà prendere coscienza di tutto quello che hai a disposizione in questo momento. Lo spirito del coyote ti ricorda di ridere delle svolti inaspettate, di sviluppare l'umiltà e la gratitudine mentre ti liberi dall'attaccamento alla forma dei tuoi desideri, anche quando ti trovi all'improvviso a deviare dal tuo cammino, chiedendoti quando tornerai in carreggiata per manifestare ciò che desideri. Ricorda che lo spirito ha un piano e desidera il meglio per te. In questo momento fidati dell'ordine divino. Lo spirito del coyote è un aiutante divino anche se le cose sembrano prendere una piega sbagliata. Sono esattamente come dovrebbero essere. Messaggio di protezione. A volte un obiettivo è così imitante e seducente che nel perseguirlo perdi l'equilibrio. Inizi a fissarti sulla conquista del tuo traguardo, che sia l'opportunità che hai sempre cercato, una relazione con una persona sfuggente o la promessa del colpo grosso. Lo spirito del coyote ti avverte che se ti lasci abbagliare dall'energia illusoria che ti sta seducendo in questo momento non avrai che delusioni e inutili angosce. Il grande spirito desidera il meglio per te. Quindi, quando i tuoi piani vengono scompigliati, sappi che lo spirito del coyote è presente per proteggerti e benedirti. Ascolta il dolce monito che ti invita a non prendere la vita troppo sul serio o ad attaccarti alla forma e ai tempi del suo desiderio. All'orizzonte si intravede qualcosa di meglio. Se apprendi le tue lezioni e alleggerisci il cuore, ben presto capirai che non hai mai abbandonato la strada giusta, per quanto tortuosa possa essere stata. Questo è il messaggio della buonanotte.